dal DUP, forse uno di loro. È una fortuna che tuo fratello sia qui. Il mio compito è catturare i fuggitivi. Ok, cerchiamo chiunque indossi un giubbotto giallo e nero. Ne ho visto uno a terra allo In Game Market. Sembrava difficile da tirare via con tutti quei lucchetti. Devo ammettere, fratellino, che stai diventando bravo nella caccia all'uomo. Una volta tornati a casa potrei nominarti mio vice, così finalmente avresti un lavoro. No, grazie. Un poliziato in famiglia è già abbastanza imbarazzante. Non sono abituale. Ce n'è uno in trappolato sulla gru! Mi dispiace se vengo con voi? Vedo le cose diversamente. No, grazie. No, grazie. Vieni giù! Così possiamo staccarti con la testa da mostro! Non so, ma ci hanno circondato! È una piaga per l'umanità! No, grazie a tutti! Ma ci sono stati in famiglia! Grazie a tutti.